Un accordo di collaborazione tra Unione Industriale di Napoli e BNL Gruppo BNP Paribas nato con l'obiettivo di rendere più fluido il rapporto tra banca e impresa a vantaggio di tutte le associate e in particolare per le PMI del territorio. L'accordo è stato firmato nella sede di Palazzo Partana dell'Associazione Imprenditoriale. Con questo accordo quadro si dà la possibilità di interagire meglio fra noi e l'impresa in tutte le sue tipologie, dalle piccole alla grandissime. L'obiettivo è soddisfare tutti i bisogni delle aziende, non solo di credito ma anche di altro tipo. Così Gigi Lasio, direttore regionale per la Campania e la Basilicata di BNL Gruppo BNP Paribas. Sigliamo questo accordo che è un accordo quadro di possibilità di interagire meglio tra noi e l'impresa. L'impresa è fatta di tante tipologie di imprese, abbiamo le aziende piccole, le aziende grandi, le aziende grandissime, quindi in questo contesto sicuramente BNL si inserisce attraverso la sua struttura organizzativa regionale che è fatta di agenzie, che è fatta di centri imprese, che è fatta di centri private per soddisfare tutti i bisogni, chiaramente valutando le singole situazioni che ci vengono sottoposte. Intervenuta la Presidente del Gruppo Piccola Industria dell'Unione, Anna Del Sorbo. Continua il percorso sul credito per la crescita delle imprese. Le imprese, fra le sfide delle imprese ci sono senz'altro l'innovazione e l'internazionalizzazione, le leve per la crescita delle PM italiane e questa leva si può spingere solo con un sano accesso al credito e con un dialogo delle banche forte. Per noi come associazione il mondo del credito innanzitutto si apre con uno sportello di dialogo. Noi vogliamo che questa sede sia il luogo dove gli imprenditori incontrano la banca. Senz'altro l'accordo di oggi ha delle condizioni vantaggiose per gli associati e tra l'altro stiamo anche portando avanti un po' quella che è la cultura d'impresa rispetto agli strumenti di finanza innovativa.